Ciao a tutti da Leto Discount e da Roberto, oggi siamo di consueto in sede aziendale con questo spettacolare Mercedes classe E200 1991 iscritto ASI, registro storico italiano. Cosa siamo andati a fare? Eh, chi lo sa. Siamo andati a fare conversione a LED perché purtroppo macchina che ormai ha oltre 25 anni, non si vede più niente, ovviamente le parabole hanno avuto i suoi anni di invecchiamento. Base H4 su questo bellissimo Mercedes, kit Sirio già presentato, eccolo qua, adesso poi ve lo faccio vedere anche acceso, eccolo qua, kit Sirio molto piccolino, miniaturizzato, non è stato modificato niente all'interno del faro, il tappo è suo originale di Mercedes, andiamo a vederlo acceso. macchina completamente restaurata, bellissimo veramente, complimenti al proprietario. Eccolo qua, anabagliante e ovviamente abbagliante. Kit Sirio pertanto per ricordarsi, con dissipazione attiva, colore 6500K, molto bello, un taglio di luce perfetto su strada, è quello che serviva per questo veicolo perché purtroppo le basi lampadine H4 classiche su questa frenaria ormai non vanno più, non riescono più a dare la profondità, la qualità e quindi anche in notturno questa macchina diventa molto molto pericolosa, oltre a essere molto pericolosa perché sono mezzi di anni 90, sono delle bare. Però comunque questa Mercedes è veramente bellissima, aveva già in dotazione l'airbag, una serie di ABS, quindi già nel 1991 chiaramente Mercedes è sempre stata avanti. Bene, come sempre io vi invito in sede aziendale a San Zeno nell'Ambro in via 1 maggio del Civico 16, la zona industriale, il sito internet elettrosegnomenodiscan.com dove trovate lo shop online, la nostra email info-elettrosegnomenodiscan.com, i nostri ovviamente social, YouTube, carichiamo un bellissimo video, Facebook, Instagram e Twitter, e il nostro telefono fisso 0298-26-0207. Ciao!